Buonasera in diretta dalla redazione di Telebari, benvenuti al consueto appuntamento con il nostro Tg Sera, la sanità in primo piano, l'Irts, l'istituto di ricovero e cura, diventa l'oncologico di Puglia, trasferiti nell'istituto Giovanni Paolo II, i reparti di anatomia patologica e chirurgia toracica dell'ospedale San Paolo e dell'unità di oncologia medica del divenne. Le guardiamo. Oggi comincia la rivoluzione dell'oncologia pugliese attraverso l'inizio dell'attività del nuovo oncologico di Bari, che è stato rafforzato con più di 100 nuove unità lavorative, sono stati attrezzati nuovi reparti, è stata trasferita l'anatomia patologica, che quindi oggi è stata completamente accentrata qui con ovviamente un risultato molto importante dal punto di vista scientifico, la chirurgia toracica, nuove oncologie, quindi finalmente i cosiddetti viaggi della speranza fuori dalla Puglia potranno essere limitati in modo razionale e usufruendo di una struttura moderna. Era già stato deciso di diluirlo nel policlinico, ma da cadavere l'IRCS rinasce e diventa oncologico di Puglia. Il più grande obiettivo delle professionalità al suo interno è quello di limitare i viaggi della speranza. Ne fa anche una questione di dignità il presidente della regione Michele Emiliano, che cita il canto della durata per lanciare un messaggio. Questo non è un annuncio, siamo qui per rimanerci. Conferenza stampa questa mattina per il trasferimento nell'Istituto Giovanni Paolo II dei reparti di anatomia patologica e chirurgia toracica dell'ospedale San Paolo e dell'unità di oncologia medica del di Venere. Un'identità forte, un nome da spendere all'esterno, un punto di riferimento per tutti i pugliesi e non solo. Uno schema difficile da replicare, continua il presidente, che vogliamo portare in altri luoghi. La ricetta? Quella di riunire le professionalità nei grandi centri, chiudendo quelli piccoli e spesso inutili. A supporto della sua tesi Emiliano fornisce numeri. Per 4 milioni e mezzo di persone continua 31 ospedali, sono troppi. Una cultura che deve diventare comune e lancia l'idea degli open day, anche per chi malato non è. Tutti devono conoscere. Un'utopia che diventa realtà, lo ha definita così, il risultato raggiunto, il professor Paolo Sardelli, primario di chirurgia toracica del San Paolo, approdato al Giovanni Paolo II. L'aveva inizialmente definita un'utopia, questa invece si sta realizzando, ma ce ne sono altre. Le oggi ha lanciato un appello al presidente Emiliano. Certo, noi oggi abbiamo realizzato questa splendida struttura che è già operativa, già i primi pazienti sono stati brillantemente operati da tutta la mia equipe. Però quello che io sogno, e anche questo forse attualmente è un'utopia e spero diventi realtà, è organizzare una perfetta simbiosi con il vicino policlinico, dove ci sono degli autentici fuoriclasse, con cui noi dobbiamo lavorare nell'interesse dei nostri pazienti. Io devo avere la possibilità di andare a lavorare al policlinico, loro devono avere la possibilità di lavorare all'interno di questa struttura che è a 200 metri, grazie a una legge del 2005, cioè quella del dipartimento interaziendale. Il governatore Emiliano, a margine di questo incontro, è intervenuto nuovamente sulla polemica sull'obbligo vaccinale. Posso solo giudicare se una legge è fatta bene o è fatta male, ed io mi sono limitato a dire che la legge non è scritta benissimo. Tutto qui, lo ha detto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, parlando oggi delle recenti polemiche del dibattito, apertosi anche tra le forze politiche sull'obbligo vaccinale. Io dei vaccini parlo solo con i giulisti, non posso parlarne con i medici, ha concluso Emiliano, non avendo competenze in materia. E torniamo sull'emergenza sicurezza. Con gli ultimi due sequesti di pistole pronte a sparare, i carabinieri hanno sventato nuovi agguati. È alta l'attenzione dei militari sul giro di armi tra giovani leve e della criminalità organizzata. Sentiamo. Perfettamente funzionanti e pronte a sparare, gli accertamenti sulle armi sequestrate dai carabinieri nelle ultime ore a Bari non lasciano spazio incertezze. Le pistole, sottratte a due pregiudicati, Carlo Costantino e Antonio Citarelli, la prima durante i controlli a Santo Spirito, la seconda a San Girolamo, erano pronte a sparare. In entrambi i casi, con il caricatore pieno. Secondo gli investigatori dell'arma, quasi certamente sarebbero state impiegate per nuovi agguati. I due pregiudicati sono stati arrestati dopo aver tentato la fuga. Intanto sono in corso accertamenti balistici per accertare se le armi siano state utilizzate nei recenti agguati. L'ultimo, al quartiere San Paolo, dove due giorni fa due pregiudicati sono rimasti feriti dopo una lite all'interno di un circolo ricreativo. L'attenzione dei militari del comando provinciale è concentrata sul giro di armi e sul facile utilizzo di pistole, anche modificate nella disponibilità delle giovani leve dei clan e non solo nei quartieri più a rischio, come San Paolo e Iapigia, dove la ripresa della guerra tra gruppi criminali opposti rischia di sfociare nell'ennesimo spargimento di sangue. Sequestrata una discarica abusiva carbonare. I sigili sono stati posti dalla Polizia Municipale durante i servizi di vigilanza. L'area incolta di 2000 metri quadrati che si trova in località La Macchia era piena di rifiuti speciali non pericolosi. Tra mobili in disuso, vecchie slotte, scarti di edilizia da demolizione, anche la carcassa di un'autovettura Audi completamente bruciata, priva di motore, con telaio illegibile. Sono in corso ulteriori indagini da parte della Polizia Giudiziaria competente. L'ennesimo sequestro di un terreno in quella zona dimostra che l'amministrazione è particolarmente attenta a ciò che accade in quelle strade e in quelle aree di campagna, ha commentato l'assessore dell'ambiente Pietro Petruzzelli, troppo spesso oggetto di roghi che generano fumi dannosi per la salute dei cittadini e di tutto il territorio circostante. E ancora ricoverato al Policlinico di Bari in prognosi riservata l'uomo di 85 anni che questa mattina è stato investito da un ciclomotore in corso Italia. Secondo quanto ha preso le sue condizioni sarebbero gravi mentre resta ancora poco chiara la dinamica degli incidenti avvenuto intorno alle 8.30 in cui sarebbe rimasto lievamente ferito anche il conducente del mezzo. Quest'ultimo è stato trasportato al Policlinico, sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e la polizia locale. E siamo ai test di ammissione alle facoltà di medicina, odontoiatria e professioni sanitarie. Quasi 3.000 a Bari gli aspiranti studenti che si sono presentati questa mattina alle 5, nelle 5 sedi preposte. Vediamo com'è andato. C'è chi si è precipitato in coda per entrare già dalle 7, c'è chi invece ha aspettato l'ultimo momento. Tra Anzi e Speranza e la carica del 2800 ha iniziato alle 11 in punto i test di ammissione alle facoltà di medicina, odontoiatria e professioni sanitarie. Un boom di iscrizioni ai test, merito anche del costo rimasto invariato negli ultimi anni, 50 euro, a differenza di altre realtà italiane in cui si è arrivati quest'anno anche a pagare oltre i 100 euro, come all'Humanitas di Milano. E a proposito di incrementi, il 2017 vede un aumento di 200 iscrizioni per ciascuna facoltà, 49 le aule che hanno ospitato i test, a Bari distribuite in 5 sedi, Policlinico, Ateneo, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Campus. Tentare non vuole. Ultimamente ho deciso di intraprendere questa cosa. Avete studiato? Sì, abbastanza. 5 anni più tutta l'estate, abbastano. 309 posti per 2814 candidati che hanno dovuto rispettare la trafila prima di entrare in aula. Nel sacco blu gli oggetti da lasciare all'esterno come borse, cellulari e giacche, in quella bianca invece tutto ciò che poteva servire durante lo svolgimento della prova. Dopo le transenne i metal detector e poi massima concentrazione, anche per chi era fuori ad aspettarli. Qualche genitore ha partecipato alle visite guidate nei musei del campus, organizzati dalla rete museale dell'Ateneo Barese, per poi ritornare in postazione ad aspettare il proprio figlio anche fuori dai cancelli del Politecnico. Chi era più agitato stamattina? Mia moglie. Sono medico e per come va la medicina oggi lo avrei sconsigliato. Siamo in ansia più di loro. No, sono tranquillo perché non è la prima volta che lo fa. No, la seconda volta. Speriamo bene. Dopo la cattolica la storia da lei. Quindi ha deciso di tornare a Bari? Sì. Perché? L'antiterrorismo è anche una questione culturale e attorno a questa convinzione che è nata l'idea di far partire a Bari primo Ateneo in Italia un master in prevenzione della radicalizzazione del terrorismo e politiche di integrazione interreligiosa e interculturale. Il corso punta alla formazione di una nuova figura professionale specializzata in antiterrorismo e l'idea è nata proprio da alcuni casi giudiziali che hanno interessato il territorio barese. Il percorso formativo della durata di 1.500 ore e del costo di 1.400 euro partirà il prossimo 27 ottobre ed è destinato ad un massimo di 50 iscritti. L'obiettivo del master, ha spiegato il magnifico rettore Antonio Uricchio, è appunto quello di formare esperti istruiti a individuare e riconoscere sin dai primi cenni di comparsa tutti quei comportamenti che tendono all'estremismo radicale e terroristico. Compra una borsa, partecipa e vinci uno stagio, scoppia la bufera social sul contest Carpisa che fa infuriare i follower di Porta Futuro. A far scattare la polemica il parere su questa inusuale forma di recruiting richiesto sulla pagina Facebook del Job Center di Bari. Partecipa e vinci uno stagio in azienda, recita lo slogan promosso da Carpisa. In sostanza per poter partecipare alle selezioni riguardanti lo stagio in programma Napoli dal 6 novembre al 5 dicembre bisogna in sequenza acquistare una borsa donna della collezione Autunno-Inverno 2017-2018 ricordandosi di conservare il codice gioco e lavorare un piano di comunicazione seguendo le linee guida dettate dall'azienda e compilare l'apposito form. Fare leva su di un bisogno fondamentale di lavorare per vendere i propri prodotti mi sembra una grande presa in giro e poi ancora si legge tra i commenti sui social Sibilli in operazione di marketing dell'azienda sulla pelle di chi ha bisogno di un lavoro. I messaggi tutti dello stesso tenore. Insomma almeno a Bari la trovata di Carpisa pare sia piaciuta davvero poco. La società svedese Transcom che opera nel settore dei call center ha annunciato il licenziamento di 40 lavoratori tra interlinali a progetto nella sede di Modugno. Lo riferisce in una nota l'unione sindacale di base nel caso dei lavoratori a progetto sostiene il sindacato dopo anni di lavoro precario invece di un'assunzione si ritrovano con un licenziamento ben servito. Secondo l'USB la vicenda della Transcom si inserisce in un più ampio comparto lavorativo presente in provincia di Bari che coinvolge oltre 5.000 lavoratori e lavoratrici con differenti modalità contrattuali. In molti casi aggiunge il sindacato si ritrovano con contratti precari al limite della schiavitù su cui gli enti locali in primis la regione Puglia farebbe bene ad intervenire. Una richiesta tra l'altro che da mesi avanziamo ma che sfocia solo in un silenzio assordante della regione e dell'assessorato al lavoro. L'USB sottolinea che la Transcom è una di quelle aziende che ha ottenuto e continua ad ottenere contributi pubblici da parte della regione sotto forma di corsi di formazione ma allo stesso tempo non si assume la responsabilità sociale di garantire i livelli occupazionali. Mancano pochi giorni l'inaugurazione della Fiera d'Elevante. Procedono i preparativi anche in vista dell'arrivo del Presidente del Consiglio. Con Paolo Gentiloni ritorna dopo anni il tradizionale giro istituzionale. Sentiamo. Meno 4 alla Fiera d'Elevante. Fervono i preparativi per l'ottantunesima edizione della campionaria barese. Tutti al lavoro per gli ultimi ritocchi fuori e dentro i padiglioni. Tutto deve essere pronto per la mattina di sabato. Alle 11 il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni arriverà nel quartiere fieristico per tagliare il nastro dopo la tradizionale cerimonia inaugurale. Poi il giro istituzionale tra diversi stand. Una tradizione che si era persa nel corso degli anni. L'ultimo risale alla legislatura di Silvio Berlusconi. Le porte della campionaria si apriranno così ufficialmente al pubblico alle 15. Tante le novità che si combineranno con la tradizione. Aprirà dopo anni di lavoro la Puglia Film House, la casa del cinema che ospiterà dal 9 al 17, mostre, proiezioni di film e incontri d'autore con Margherita Bue e Laura Morante e ospiti nel pomeriggio di sabato 9 e sabato 16. Spazio alla cultura anche nel Polo delle Arti della Regione, nel padiglione 115, una delle due torri che riaprirà dopo anni di restauro. Una mostra sarà dedicata alla birra grazie al birrificio Bari nella piazza principale. Il planetario ospitereà invece il cosmonauta Walter Villadei. Il padiglione 138 sarà dedicato alla famiglia, un'intera settimana di eventi organizzati dalla piattaforma Città dei Bimbi. Al padiglione della Francia e della Spagna si unirà quest'anno quello della Sicilia con i suoi profumi e soprattutto i suoi sapori. Il Cosmoprof sarà un appuntamento fisso nello spazio 7 con un angolo dedicato alla bellezza tutto al maschile, solo tre giorni per la rassegna dedicata al fai da te, mondo creativo, in fiera dal 14 al 17. Nel nuovo padiglione una maxisfera proietterà video all'interno e dall'esterno. Esperienze estreme si vivranno anche nel circuito test drive di Jeep con piloti federali. Presentati questa mattina all'Università di Bari due nuovi corsi di studi post laurea. Il primo è un corso breve sulla tutela del mercato fra ordinamento cinese e italiano, mentre il secondo è un master annuale sull'antiterrorismo. Sentiamo. Una iniziativa importante anche perché si colloca all'interno di un processo di internazionalizzazione che il nostro Ateneo persegue con forza e che oggi inizia a dare i suoi frutti. E' proprio il concetto di internazionalizzazione a legare i due nuovi corsi di studio in rampa di lancio all'Università di Bari nei prossimi due mesi. Il primo dei due ha lo scopo di trasmettere agli studenti le nozioni principali del diritto e dell'ordinamento giuridico cinese, in particolare dal punto di vista del diritto dei contratti. Si svolgerà dal 18 al 22 settembre a discrizione gratuita. Grazie al sostegno della regione si rafforza così la collaborazione fra l'Ateneo Barese e l'Università di Shanghai. Unico in Italia, il master annuale in prevenzione della radicalizzazione del terrorismo si focalizzerà invece sullo studio del terrorismo e delle modalità di contrasto preventivo. Ampio spazio sarà dedicato ad approfondimenti sulle religioni e sull'integrazione socioculturale tra italiani e stranieri. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al prossimo 30 settembre. La convinzione che per contrastare i fenomeni terroristici occorre muovere attraverso la leva della cultura e attraverso anche un impegno forte nella promozione di modelli che sappiano dialogare tra loro. Quindi abbiamo costruito un percorso formativo che oggi proponiamo e riteniamo anche che su questo tema si possono costruire competenze e professionalità. Bene, ci fermiamo. Breve pausa pubblicitaria. Tra poco torniamo con altre notizie. Restate con noi. Per la seconda parte del nostro telegiornale Sanità in primo piano. L'Istituto di Ricerca e Cura diventa l'oncologico di Puglia. Trasferiti nell'Istituto Giovanni Paolo II i reparti di anatomia patologica e chirurgia toracica dell'ospedale San Paolo e dell'unità di oncologia medica del di Venere. Sentiamo. Oggi comincia la rivoluzione della oncologia pugliese attraverso l'inizio dell'attività del nuovo oncologico di Bari che è stato rafforzato con più di 100 nuove unità lavorative. Sono stati attrezzati nuovi reparti. È stata trasferita l'anatomia patologica che quindi oggi è stata completamente accentrata qui con ovviamente un risultato molto importante dal punto di vista scientifico, la chirurgia toracica, nuove oncologie. Quindi finalmente i cosiddetti viaggi della speranza fuori dalla Puglia potranno essere limitati in modo razionale e usufruendo di una struttura moderna. Era già stato deciso di diluirlo nel policlinico ma da cadavere l'IRCS rinasce e diventa oncologico di Puglia. Il più grande obiettivo delle professionalità al suo interno è quello di limitare i viaggi della speranza. Ne fa anche una questione di dignità il presidente della regione Michele Emiliano che cita il canto della durata per lanciare un messaggio. Questo non è un annuncio, siamo qui per rimanerci. Conferenza stampa questa mattina per il trasferimento nell'istituto Giovanni Paolo II, dei reparti di anatomia patologica e chirurgia toracica dell'ospedale San Paolo e dell'unità di oncologia medica del di Venere. Un'identità forte, un nome da spendere all'esterno, un punto di riferimento per tutti i pugliesi e non solo. Uno schema difficile da replicare, continua il presidente, che vogliamo portare in altri luoghi. La ricetta? Quella di riunire le professionalità nei grandi centri, chiudendo quelli piccoli e spesso inutili. A supporto della sua tesi, Emiliano fornisce numeri. Per 4 milioni e mezzo di persone continua 31 ospedali, sono troppi. Una cultura che deve diventare comune e lancia l'idea degli open day, anche per chi malato non è. Tutti devono conoscere. Un'utopia che diventa realtà, lo ha definita così il risultato raggiunto il professor Paolo Sardelli, primario di chirurgia toracica del San Paolo, approdato al Giovanni Paolo II. L'aveva inizialmente definita un'utopia, questa invece si sta realizzando, ma ce ne sono altre. Lei oggi ha lanciato un appello al presidente Emiliano. Certo, noi oggi abbiamo realizzato questa splendida struttura che è già operativa, già i primi pazienti sono stati brillantemente operati da tutta la mia equipe. Però quello che io sogno, e anche questo forse attualmente è un'utopia e spero diventi realtà, è organizzare una perfetta simbiosi con il vicino policlinico, dove ci sono degli autentici fuoriclasse con cui noi dobbiamo lavorare nell'interesse dei nostri pazienti. Io devo avere la possibilità di andare a lavorare al policlinico, loro devono avere la possibilità di lavorare all'interno di questa struttura che è a 200 metri, grazie a una legge del 2005, cioè quella del Dipartimento Interaziendale. Ed Emiliano è intervenuto sulla polemica sull'obbligo vaccinale. Posso solo giudicare se una legge è fatta bene o è fatta male? Io mi sono limitato a dire che la legge non è scritta benissimo. Tutto qui, lo ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando oggi delle recenti polemiche del dibattito, apertosi anche tra le forze politiche sull'obbligo vaccinale. Io dei vaccini parlo solo con i giuristi, non posso parlarne con i medici, ha concluso Emiliano, non avendo competenze in materia. Torniamo sull'emergenza sicurezza, con gli ultimi due sequesti di pistole pronti a sparare, i carabinieri hanno sventato nuovi agguati, alta l'attenzione dei militari sul giro di armi tra giovani leve della criminalità organizzata. Sentiamo. Perfettamente funzionanti e pronte a sparare, gli accertamenti sulle armi sequestrate dai carabinieri nelle ultime ore a Bari non lasciano spazio incertezze. Le pistole, sottratte a due pregiudicati, Carlo Costantino e Antonio Citarelli, la prima durante i controlli a Santo Spirito, la seconda a San Girolamo, erano pronte a sparare, in entrambi i casi con il caricatore pieno. Secondo gli investigatori dell'arma, quasi certamente sarebbero state impiegate per nuovi agguati. I due pregiudicati sono stati arrestati dopo aver tentato la fuga, intanto sono in corso accertamenti balistici per accertare se le armi siano state utilizzate nei recenti agguati, l'ultimo al quartiere San Paolo, dove due giorni fa due pregiudicati sono rimasti feriti dopo una lite all'interno di un circolo ricreativo. L'attenzione dei militari del comando provinciale è concentrata sul giro di armi e sul facile utilizzo di pistole, anche modificate nella disponibilità delle giovani leve dei clan e non solo nei quartieri più a rischio come San Paolo e Iapigia, dove la ripresa della guerra tra gruppi criminali opposti rischia di sfociare nell'ennesimo spargimento di sangue. Sequestrata una discarica abusiva a Carbonara, i sigilli sono stati posti durante i servizi di vigilanza. L'aria incolta di 2.000 m2 che si trova in località alla macchiera piena di rifiuti speciali non pericolosi, tra mobili in disuso, vecchie slotte scarti di edilizia da demolizione, anche la carcassa di un'autovettura Audi completamente bruciata, priva di motore e con telaio illegibile. Sono in corso ulteriori indagini da parte della polizia giudiziaria competente. L'ennesimo sequestro di un terreno in quella zona dimostra che l'amministrazione è particolarmente attenta a ciò che accade in quelle strade, in quelle aree di campagna, ha commentato l'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli, troppo spesso oggetto di roghi che generano fumi dannosi per la salute dei cittadini. E siamo ai test di ammissione alle facoltà di medicina, odontoiatria e professioni sanitarie. Quasi 3.000 vari gli aspiranti studenti che si sono presentati questa mattina nelle 5 sedi preposte. Vediamo come è andato. C'è chi si è precipitato, in coda per entrare già dalle 7. C'è chi invece ha aspettato l'ultimo momento. Tra Anzi e Speranza e la carica del 2800 ha iniziato alle 11 in punto i test di ammissione alle facoltà di medicina, odontoiatria e professioni sanitarie. Un boom di iscrizioni ai test, merito anche del costo rimasto invariato negli ultimi anni, 50 euro a differenza di altre realtà italiane in cui si è arrivati quest'anno anche a pagare oltre i 100 euro come all'Humanitas di Milano. E a proposito di incrementi, il 2017 vede un aumento di 200 iscrizioni per ciascuna facoltà, 49 le aule che hanno ospitato i test, a Bari distribuite in 5 sedi, Policlinico, Ateneo, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Campus. Tentar non nuoce. Ultimamente ho deciso di intraprendere questa cosa. Avete studiato? Sì, abbastanza. 5 anni più tutta l'estate, abbastano. 309 posti per 2814 candidati che hanno dovuto rispettare la trafila prima di entrare in aula. Nel sacco blu gli oggetti da lasciare all'esterno come borse, cellulari e giacche, in quella bianca invece tutto ciò che poteva servire durante lo svolgimento della prova. Dopo le transenne i metal detector e poi massima concentrazione anche per chi era fuori ad aspettarli. Qualche genitore ha partecipato alle visite guidate nei musei del campus, organizzate dalla Rete Museale dell'Ateneo Barese, per poi ritornare in postazione ad aspettare il proprio figlio anche fuori dai cancelli del Politecnico. Chi era più agitato stamattina? Mia moglie. Sono medico e per come va la medicina oggi lo avrei sconsigliato. Siamo in ansia più di loro. No, sono tranquillo perché non è la prima volta che lo fa. No, la seconda volta. Speriamo bene. Dopo la cattolica la storia da lei. Quindi ha deciso di tornare a Bari? Sì. Perché? Presentate questa mattina, siamo sempre in tema di università, due nuovi corsi di studi post laurea. Il primo è un corso breve sulla tutela del mercato, fra ordinamento cinese e italiano, mentre il secondo è un master annuale a proposito di antiterrorismo. E allora oggi la presentazione di questi corsi è andato per noi Giuseppe Spagnolo. Vediamo. Una iniziativa importante anche perché si colloca all'interno di un processo di internazionalizzazione che il nostro Ateneo persegue con forza e che oggi inizia a dare i suoi frutti. E' proprio il concetto di internazionalizzazione a legare i due nuovi corsi di studio in rampa di lancio all'Università di Bari nei prossimi due mesi. Il primo dei due ha lo scopo di trasmettere agli studenti le nozioni principali del diritto e dell'ordinamento giuridico cinese, in particolare dal punto di vista del diritto dei contratti. Si svolgerà dal 18 al 22 settembre a discrizione gratuita. Grazie al sostegno della regione si rafforza così la collaborazione fra l'Ateneo Barese e l'Università di Shanghai. Unico in Italia, il Master annuale in prevenzione della radicalizzazione del terrorismo si focalizzerà invece sullo studio del terrorismo e delle modalità di contrasto preventivo. Ampio spazio sarà dedicato ad approfondimenti sulle religioni e sull'integrazione socioculturale tra italiani e stranieri. Le iscrizioni rimarranno aperte sino al prossimo 30 settembre. La convinzione che per contrastare i fenomeni terroristici occorre muovere attraverso la leva della cultura e attraverso ovviamente anche un impegno forte nella promozione di modelli che sappiano dialogare tra loro. Quindi abbiamo costruito un percorso formativo che oggi proponiamo e riteniamo anche che su questo tema si possono costruire competenze e professionalità. Mancano pochi giorni all'inaugurazione della Fiera del Levante e procedono i preparativi anche in vista dell'arrivo del Presidente del Consiglio e con Paolo Gentiloni ritorna dopo anni anche il tradizionale giro istituzionale. Vediamo. Meno 4 alla Fiera del Levante, fervono i preparativi per l'ottantunesima edizione della campionaria barese. Tutti al lavoro per gli ultimi ritocchi, fuori e dentro i padiglioni. Tutto deve essere pronto per la mattina di sabato. Alle 11 il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, arriverà nel quartiere fieristico per tagliare il nastro dopo la tradizionale cerimonia inaugurale. Poi il giro istituzionale tra diversi stand, una tradizione che si era persa nel corso degli anni. L'ultimo risale alla legislatura di Silvio Berlusconi. Le porte della campionaria si apriranno così ufficialmente al pubblico alle 15. Tante le novità che si combineranno con la tradizione. La regione aprirà dopo anni di lavoro la Puglia Film House, la casa del cinema che ospiterà dal 9 al 17, mostre, proiezioni di film e incontri d'autore con Margherita Bui e Laura Morante, ospiti nel pomeriggio di sabato 9 e sabato 16. Spazio alla cultura anche nel Polo delle Arti della Regione, nel padiglione 115, una delle due torri che riaprirà dopo anni di restauro. Una mostra sarà dedicata alla birra, grazie al birrificio Bari, nella piazza principale. Il planetario ospitereà invece il cosmonauta Walter Villadei. Il padiglione 138 sarà dedicato alla famiglia, un'intera settimana di eventi organizzati dalla piattaforma Città dei Bimbi. Al padiglione della Francia e della Spagna si unirà quest'anno quello della Sicilia, con i suoi profumi e soprattutto i suoi sapori. Il Cosmoprof sarà un appuntamento fisso nello spazio 7, con un angolo dedicato alla bellezza tutto al maschile, solo tre giorni per la rassegna dedicata al Fai da te, mondo creativo, in fiera dal 14 al 17. Nel nuovo padiglione una maxisfera proietterà video all'interno e dall'esterno. Esperienze estreme si vivranno anche nel circuito test drive di Jeep con piloti federali. Bene, era il nostro ultimo servizio. Vi lascio al meteo, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Amici di Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che nel complesso sarà discreta grazie a questa zona di alta pressione che ci protegge dall'arrivo di nuove perturbazioni, ma già vi anticipo, nei giorni successivi si faranno sentire le correnti atlantiche e il tempo tenderà a peggiorare. Per quanto riguarda la nuvolosità sull'Italia, comunque dicevamo un mercoledì relativamente tranquillo. Qualche nuvola si farà vedere sul medio-alto Tirreno, sul Levante Ligure, su parte del Nord, ma senza grandi conseguenze. In effetti, guardate, poche precipitazioni, qualche goccia di pioggia potrebbe cadere tra Levante Ligure e l'Alta Toscana, qualche acquazione pomeridiano sulle Alpi e poi verso sera spunta qualche gocciolina anche nel Lazio. Quindi, in definitiva, sarà una giornata direi discreta, con alternanza di nuove iscritte, ma anche ampie zone di sereno. Il medio-alto Tirreno, però, qualche nuvola in più, la possibilità, diciamo, di qualche goccia di pioggia, anche sull'arco alpino un po' di variabilità nel nord della Sardegna, ma temperature che rimangono comunque in tutta Italia piacevoli. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com Grazie a tutti, grazie a tutti.